Gabriele si addormenta con Clizia e poi dopo c'è nonna Leonora che fa da babysitter, sempre pronta a stare con il nipote. Mentre il cucciolino dorme, vi dico che so che ormai i miei post, cioè ormai tutto Instagram funziona così, quindi sono visibili tipo al 10% delle persone che mi seguono, quindi guardate l'ultimo post e ditemi se vi è piaciuto il look di ieri, questo nono dorme, vorrei posarlo sul suo lettino, adesso ci provo. Con la nonna, col vasco! Gabriele veramente bello col vasco in testa, nonna Leonora sempre più attenta al nipote.